barricato in casa minaccia la moglie con accetta solo il negoziatore dei carabinieri lo fa ragionare un autentico assedio al sindaco pavano sulla centralina dopo la sovrintendenza arriva un'interpellanza i 73 giorni senza consiglio comunale a bassano per l'ex sindaco poletto sono anomalia democratica il comune di san zenone apre la caccia responsabili disversamenti abusivi nei corsi d'acqua grande attesa per la scelta dei volti femminili della partita a scacchi di settembre buonasera a tutti voi telespettatori benvenuti a questa nuova edizione di bassano tg apriamo subito il nostro telegiornale parlando di cronaca paura questa mattina nel marossicense un uomo ha serragliato in casa minacciato la moglie con un accetta tutti i dettagli nel nostro primo servizio l'accetta alzata sopra la testa della moglie le minacce di morte il terrore di quella povera donna che riuscendo a fuggire dal suo guzzino alza il telefono e dall'allarme avvisando il medico di famiglia racconta che il marito ha perso la testa ha preso l'ascia che abitualmente usa per tagliare la legna e l'ha inseguita urlando ti uccido il medico chiama il 112 e avvisa i carabinieri di quanto sta accadendo in quell'abitazione sulle colline del marossicense siamo arrivati in forze sul posto con delle nostre pattuglie ci siamo resi conto che l'uomo non ragionava e abbiamo quindi attivato un protocollo dove abbiamo richiesto appunto l'intervento della figura del negoziatore l'uomo un settantenne malato e sofferente di crisi depressive si è nel frattempo barricato in camera da letto con sé all'accetta la donna fortunatamente non è stata presa in ostaggio e riesce a mettersi in salvo in un'altra stanza inizia con il negoziatore la lunga trattativa prima dell'arrivo del negoziatore abbiamo fatto in modo che nessuno potesse entrare in contatto con quest'uomo quindi abbiamo isolato la zona con i nostri reparti stazione radiomobili eccetera quando è arrivato il negoziatore abbiamo iniziato questa conversazione con quest'uomo e finalmente si è reso l'anziano grazie all'intervento del negoziatore depone l'accetta e si consegna ai militari ora si trova ricoverato in psichiatria al san bassiano illesa ma sotto shock la moglie che si è trovata a vivere un vero e proprio incubo non basta la lettera durissima della sovrintendenza il comune di bassano sulla centralina idroelettrica privata ora anche tutta l'opposizione chiede al sindaco pavana di vigilare e di non ignorare le norme sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio la vicenda centralina sta letteralmente assediando la giunta di elena pavan ormai asserragliata in via matteotti e silente nonostante praticamente ogni giorno arrivino istanze e documenti che dovrebbero porre ben più di qualche dubbio sull'opportunità di continuare a non opporsi a un progetto privato che non solo non porterebbe alcun beneficio a bassano e suoi cittadini ma che al contrario impatterebbe in modo scellerato sul centro storico scellerato sia chiaro è un termine di italia nostra e non nostro qualora non lo si fosse capito lo diciamo chiaro anche noi da sempre questa emittente è schierata schieratissima schierata con la città di bassano contro un progetto che da sempre riteniamo devastante per la storia della città siamo faziosi siamo degli autentici faziosi del buon senso come d'altronde magari è faziosa del buon senso anche la soprintendenza che con carta intestate lettera protocollata ha chiesto al sindaco pavan e agli amministratori tutti di non omettere la dovuta vigilanza e informare immediatamente i carabinieri di qualsiasi movimento ci dovesse essere nel cantiere al momento di fatto ancora un cantiere più nella mente di chi lo ha delimitato che in pratica ora anche le opposizioni si muovono all'unisono con tutti i gruppi consigliari con un'interpellanza su via pusterla che chiede come mai dalle parti del sindaco pavan nulla si muova scrivono e richiamando la stessa che tra l'altro è anche avvocato dicono il sindaco ha una precisa responsabilità di rispettare i vincoli in materia urbanistica la risposta dovrebbe arrivare al prossimo consiglio comunale sempre che al consiglio ci si arrivi visto che è convocato solo a marzo ben 73 giorni dopo l'ultimo consiglio di dicembre all'insegna del voglia di lavorare saltami addosso e sempre che i tecnici della regione veneto non decidono alla fine di sbrogliare la matassa intervenendo una volta per tutte in autotutela per bloccare qualsiasi velletà di costruire una centralina idroelettrica nel cuore medievale di una città storica invidiata dal mondo i 73 giorni di sospensione tra un consiglio di comunale e l'altro sono un'anomalia parola dell'ex sindaco di bassano riccardo poletto secondo il quale il lungo letargo invernale potrebbe essere dovuto a problemi di natura politica mentre il consiglio comunale sonnecchia ciambellato in un letargo di oltre due mesi molti bassanesi si chiedono il perché di questa lunga pausa primo fra tutti l'ex sindaco riccardo poletto che sottolinea come la sospensione dell'assemblea cittadina indetta dall'amministrazione del suo successore Elena pavan sia un'anomalia è davvero un'anomalia soprattutto al primo anno perché quando si comincia a amministrare una città c'è normalmente un fervore di attività e che si vengono messe in cantiere che quindi necessitano di variazioni di bilancio di approvazione di progetti di varianti urbanistiche insomma tutta una serie di materie di progetti per la città che arrivano in consiglio comunale quindi è davvero strano che per 73 giorni non ci sia stato nulla da sottoporre al consiglio comunale resta da capire quali siano i motivi di questo letargo da dicembre a marzo questo mi fa dire che o questa amministrazione nuova che si è insediata a maggio dell'anno scorso non ha idee per la città, non ha ancora una linea, infatti facciamo fatica a intravedere un progetto o una direzione Poletto suggerisce però che le ragioni della pausa potrebbero essere anche di natura prettamente politica che vi siano dissidi interni o in qualche maniera contraposizioni in altre parole non si mettono d'accordo e quindi non riescono ad arrivare in consiglio comunale a proporre delle cose che poi possono essere votate oppure no quale sia la causa il risultato non cambia in ogni caso non è una bella situazione perché dall'idea ma non è solo un'idea sono anche poi come dire concretezza e fatti che la città sia sostanzialmente ferma che non ci siano cose che vanno avanti quello che vediamo realizzarsi anche i nuovi lavori fatti sulle rotonde di via Colombo sono tutte cose progettate e finanziate in precedenza che vanno avanti per la loro strada e che quindi poi arrivano a conclusione però è un primo anno molto molto a rilento Sversamenti abusivi a San Zenone il comune intensifica il monitoraggio per individuare i responsabili San Zenone degli Ezzelini ancora sversamenti abusivi nei torrenti del territorio precisamente lungo il fossato di via Gobba e lungo il torrente che scorre nei pressi di via Barbarigo all'Iedolo una situazione tornata alla ribalta per nuove segnalazioni di questi giorni Abbiamo coinvolto Alto Trevisiano Servizi in quanto gestore del servizio idrico integrato e della fognatura è pertanto iniziata una prima fase di verifica rispetto ai residenti allacciati alla rete della fognatura abbiamo poi coinvolto il Consorzio di Bonifica Piave qui competono i torrenti in questione che in questi giorni attraverso una dita specializzata ha eseguito una serie di video ispezioni mediante una telecamera mobile attraverso le condotte e le tubazioni delle aree interessate Le video ispezioni hanno mostrato uno scarico anomalo di acqua e detersivo proveniente da una tubazione che si inoltra in una corte comune sulla quale esistono più abitazioni private ancora due tubazioni, una più piccola, una più importante da cui provengono altrettanti sversamenti di acqua e reflue che provocano cattivi odori e inquinamento per l'ambiente ed è caccia ai responsabili L'ospice è quello che i responsabili decidono finalmente di mettersi in regola provvedendo ad allacciare i propri scarichi e servizio di idrico di fognatura E vi ricordate il caso della telespettatrice che si è rivolta a Rete Veneta per segnalare lo stato di degrado dell'alloggio popolare in via Scalabrini? Qualcosa si è mosso? I telespettatori chiamano e Rete Veneta risponde Ricordate un paio di giorni fa c'era stato segnalato un caso di degrado un brutto biglietto da visita per la città di Bassano in via Scalabrini un alloggio popolare ristrutturato ma lasciato in degrado con il sospetto che all'interno vi sia anche qualcuno che soggiorni abusivamente rimanendovi per la notte L'alloggio c'era stato detto essere di proprietà Ater Noi di Rete Veneta abbiamo chiesto informazioni precise ad Ater che da Vicenza ci risponde che di fatto non è di loro proprietà Questa palazzina non appartiene ad Ater ma è effettivamente una palazzina del nostro comune Fa parte di un progetto di ristrutturazione finanziato dalla regione nel 2015 che comprendeva 36 alloggi e contiene nel suo interno quattro appartamenti I lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati ci dice l'assessore sistemate nuove golondaie certo il tetto e gli infissi ma non l'interno I lavori sono partiti ma mancano proprio i lavori più fini che si fanno all'interno di una casa tipo l'impianto elettrico, l'impianto idraulico Tempi di chiusura lavori previsti non prima di fine anno Ringrazio Rete Veneta e anche la cittadina di ieri che ha fatto la segnalazione Ancora una volta detto fatto e stamattina dopo l'intervento di Rete Veneta la casa si presenta così con l'erba tagliata Aspettiamo adesso la rimozione delle cartacce e a proposito di eventuali segnalazioni di presenza all'interno l'assessore ribadisce che è utile chiamare gli agenti di polizia locale che effettueranno così un sopralluogo Presentata 1454 la nuova iniziativa turistica di Marossica in ballo ci sono 250 figuranti e la presentazione della bella Leonora In attesa della partita a scacchi di settembre Marossica riporta indietro le lancette dell'orologio di qualche centinaio d'anni fino al 1454 e questo infatti il nome della nuova manifestazione marosticense nata per raccontare l'antefatto della leggenda della partita a scacchi il 29 febbraio e il primo marzo spazio quindi agli sbandieratori alle antiche tradizioni e ai mestieri medievali nel castello Avremo un mercatino con sbandieratori mangiafuoco cognatori di monete ci saranno dei fabbri che creeranno spade gli sbandieratori di Firenze che verranno sudo per i 50 anni del gemellaggio con Marossica ci sarà l'intervento anche degli sbandieratori di Romano quindi veramente sarà un weekend ricco di emozioni che porterà sicuramente molto turismo Oltre ai 250 figuranti la manifestazione servirà anche a presentare la bella Leonora del 2020 e oldrà dalle protagoniste della partita a scacchi che verranno scelte in una rosa di finaliste dai saggi marosticensi In Marossica 1454 vogliamo far rivivere Marossica nei tempi del medioevo e far capire alla gente dove è nata la leggenda della partita a scacchi Una nuova proposta che si innesta su una gestione turistica che per la cittadina guarda tutte le stagioni Un invito a venire a Marossica quando? Sempre Non ci sono dei giorni preferibili o meno Marossica è sempre bella è bella in inverno, è bella d'estate, è bella in primavera, è bella in autunno Grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Tiene in via Marconi Nell'impatto una donna è rimasta gravemente ferita è stata intubasta sul posto e viste le sue condizioni è stata portata all'ospedale San Bortolo di Vicenza La prognosi è riservata riservata le condizioni della donna sarebbero gravi Vediamo ora i risultati di una brillante operazione di Carabinieri di Tiene I Carabinieri di Tiene hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio Nel corso del servizio sono stati denunciati due minorenni trovati in possesso di attrezzi atti allo scasso che alla vista della pattuglia avevano tentato di nascondere Sono state infine identificate 36 persone di cui 7 con precedenti di polizia e controllati 30 veicoli Venerdì storia incontri sul filo della memoria è un'iniziativa della biblioteca di Bassano che propone riflessioni sulle foibe Foibe in primo piano domani è la biblioteca civica di Bassano per il ciclo incontri sul filo della memoria Venerdì quindi alle 18.30 lo storico goriziano Franco Miccoli interverrà alla conferenza dal titolo Percorsi di memoria lungo il confine orientale, le due guerre mondiali e le riflessioni della commissione storico-culturale italo-slovena A dialogare con lui lo storico bassanese Francesco Tessarolo E a Cassola la Proloco ha organizzato un appuntamento con Carlo Cottarelli Cassola giovedì 13 febbraio alle 20.45 l'economista e scrittore Carlo Cottarelli sarà ospite all'editorium Vivaldi di San Giuseppe Sarà l'occasione per parlare di economia, finanza ma anche di bufale Cottarelli autore di Pachidermi e Pappagalli, già commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Nel 2018 accettò riformare un governo tecnico e di assumere la carica di presidente del Consiglio dei Ministri Parliamo ora di pattinaggio artistico Alvia domani i campionati regionali a Bassano Campionati regionali di pattinaggio artistico a rotelle indetti dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici nel pomeriggio di domani venerdì 7 febbraio Ad occuparsi dell'organizzazione dell'evento sarà quest'anno la società News Skate Che avrà in gara sei delle sue squadre Che ha saputo portare i piedi del grappa alla manifestazione Che vedrà fronteggiarsi le società di tutto il Veneto Appuntamento dunque al palasporto di Bassano dalle 18.30 Dove scenderanno in pista più di 100 gruppi appartenenti a oltre 50 diverse società Che verranno a darsi battaglia per strappare un biglietto per i campionati nazionali Che si svolgeranno dal 19 al 22 marzo a Conegliano Avevano organizzato una fiorente rete di spaccio nell'alta Padovana I due spacciatori di origine tunisina sono stati arrestati dai carabinieri di Cittadella Dopo un primo blitz a Curtarolo La sua presenza a Santa Maria di Non, frazione di Curtarolo, non era passata inosservata Osni Nasrawi, ben noto spacciatore, era stato visto cedere alcune bustine a due italiani Ed era stato bloccato Un intervento che permesso ai carabinieri di Cittadella di sequestrare mezzo chilo di cocaina E risalire a un'organizzata rete di compravendita di droga In casa del tunisino a Kadoneghe sono stati trovati 15.000 euro in contanti e poche altre dosi Dall'esame del suo cellulare i militari sono risaliti a un secondo tunisino residente a Villanova di Campo San Piero Dove è stata sequestrata altra droga Entrambi gli stranieri sono stati arrestati Grande attualità questa sera a Focus a partire dalle 21.15 In studio ci saranno anche Sonia Boscarina, Roberto Ciambetti, Gian Antonio Dare, Gio Formaggio, Franco Vescovo e Giorgio Vigni Quindi non perdete l'appuntamento Vediamo ora i vostri sms e le previsioni del tempo di domani Grazie per essere stati in nostra compagnia Buona serata a tutti voi Arrivederci Grazie a tutti Ti senti a disagio? A causa di problemi all'udito? Affidati a Punto Acustico Da oltre 20 anni si prende cura del tuo udito Bentrovati al meteo Alta pressione sul nostro territorio Bel tempo dunque Attenzione solamente alle gelate notturne Il dettaglio di venerdì 7 febbraio Sul Veneto ampio solleggiamento dappertutto Vedete il cielo si presenterà sereno o al massimo velato Saranno possibili solamente locali foschie mattutine Poi in rapido dissolvimento Vediamo anche le temperature minime sotto zero o intorno a zero gradi dappertutto Massime comprese invece tra 7 e 10 gradi Poche novità anche a Vicenza Nella città di Bassano del Grappa in particolare Sarà una giornata con tempo stabile Tanto sole ovunque senza piogge Il cielo si presenterà sereno o velato Temperature massime fino a 8 gradi Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto Arrivederci Controlli gratuiti Soluzioni personalizzate E protesi di ultima generazione altamente tecnologiche Scegli di sentire bene Scegli Punto Acustico A Bassano A Bassano A Bassano Ausdi A Bassano Grazie a tutti.